Approvate a maggioranza dal Consiglio Comunale di Campobasso le tre proposte di deliberazione discusse. Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti PEF Tari 2022-2025, le tariffe Tari per l'anno in corso e l'atto di indirizzo su gestione e riscossione consumi di acqua, cup e canone per i mercati. Non parliamo di aumenti, ha detto l'assessore al bilancio Giuseppina Panichella, parlando dei rifiuti, ma c'è stata una rivalutazione Istat tutto è calcolato in proporzione al numero dei componenti del nucleo familiare e metri quadrati dell'immobile. L'ammontare totale per il 2022 è di circa 7 milioni e 9, 7 milioni e 9 IVA compresa. C'è stato un incremento di circa 140 mila euro rispetto all'anno scorso, forse c'è stato un aumento di 0,45% mi viene in mente per nucleo familiare composto da una persona con 50 metri, come addirittura vi dicevo prima c'è una riduzione per quei nuclei familiari che sono composti da 6 persone in più, addirittura arriviamo anche a un risparmio che sono piccoli risparmi, però di 5 all'incirca 5 euro, 2,80 euro, c'è varia per fascia. Lavoriamo in sinergia con la SEA, ha spiegato ancora Panichella, che ha sottolineato alcuni aspetti da considerare sia tecnici sia afferenti alla sfera del senso civico di ognuno. Stiamo cercando di individuare gli evasori totali, abbiamo a disposizione delle banche dati, questo è iniziato già da dicembre, quindi per quanto riguarda le attività commerciali abbiamo potuto incrociare dei dati che avevamo qui in comune con la Camera di Commercio, con la Banca Dati della Camera di Commercio per vedere se c'erano degli evasori totali a noi sconosciuti e così stiamo facendo anche con le utenze domestiche, man mano che stiamo ampliando la raccolta porta a porta abbiamo fatto un censimento per vedere se effettivamente tutti risultavano, perché c'è da capire questo, che come comune noi dobbiamo coprire pari pari quello che è il costo della raccolta, però naturalmente più utenti sono e più scende la tariffa per tutti quanti. Poi un'altra cosa importante è che dobbiamo imparare a fare una giusta raccolta differenziata.